Da martedì comincerà la fase di dialogo e ascolto per quanto riguarda la ricostruzione delle poste a terremoto. L'ha detto il Premier Renzi di ritorno dal vertice del G20 in Nancina e verrà il punto della ricostruzione insieme al commissario poste a terremoto Vasco Errani. Lo stesso Renzi aggiunge che Casa Italia è un progetto di tutto il paese al quale ci avviciniamo più da pari che da rappresentanti del governo. Intanto la protezione civile ha reso noto il bilancio finale del SISBAN dello scorso 24 agosto. I morti sono 296, l'ultimo corpo è quello di un ragazzo di 26 anni che la cui casa era collata proprio in quel giorno. Intanto si è costituito il bullo di magistrati della procura di Riedi, lo ha annunciato il procuratore Saieva in conferenza stampa. Tra l'altro la stessa procura ha messo in evidenza che in bullo ci saranno tutti i magistrati e bisognerà assicurare uno supporto organizzativo di personale e mezzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.